La tannica Si tratta di una tannica scolpita in pietra di Vicenza e fa parte di una serie di diverse tanniche tutte di modelli diversi e di materiali lapidei diversi che ho scolpito in giro per l'Italia e per l'Europa Sono felice di poter esporre nuovamente questo lavoro di portarlo ancora in giro e di contaminare un altro luogo pubblico con questo tipo di lavoro Il titolo fa riferimento a una serie che si rivolge all'analisi degli oggetti di uso comune quotidiano e in questo caso qui il riferimento è a una tannica perché è un oggetto che ha una simbologia molto importante legata da un lato al petrolio e dall'altro all'acqua Spesso nelle immagini che riceviamo vediamo le popolazioni più povere trasportare l'acqua per chilometri e chilometri e quindi diventa come dire un mezzo di vita Dall'altro lato è invece come un mezzo di morte perché al petrolio sono legate tantissime guerre e tantissimi atti di violenza L'idea di portare questo lavoro chiaramente è legata anche all'analisi di questo spazio aperto che ha una forte relazione con il vaccino idrico e quindi la tannica è rivolta volutamente verso il lago ed è uno spazio molto interessante da poter vivere in un modo nuovo attraverso le opere d'arte